Hola, io sono Marcos Cron e bentornati nel gioco con la musichetta più bella che io abbia mai giocato! No signori, bentornati ne all'IEA, nell'ultima puntata siamo arrivati fino al casino, ma ovviamente uscendo dal gioco e rientrando devo ritornarci, qui non posso passare. Ora siamo pure andati nell'isola come mi ha suggerito un grandissimo nostro iscritto, che effettivamente mi ero scordato, perché avendo ricominciato il gioco a seguito di un bug mi ero scordato completamente di andare nell'isola. Ma no, ma io già l'ho fatto, giuro, vediamo quanti soldi ho. No, non mi ha salvato! Vabbè, signori, che gioco di merda però che non mi salva. Qui c'è un'altra casina, ma questa è diversa? No, è uguale, sti cazzi, ciao. Ok, ma i big money dove sono, scusate. Oh, 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 ma devi morire nel fuoco! Mortacci tua! Olè! Cosa? Oh! X! Ma bellissimo wrestling! Dun 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 dun! Slumdunk! Y! Spatapanfata! Io le mostro e non le so del wrestling. Watto! Skatrush! E adesso? B! Fammi il 619, ti prego diventi il mio... No, 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 bella pure con la maschera. Oh mio Dio, ma che cazzo? Dun 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 dun! Credo che Ciccio sia morto, ho questa impressione. Ma non riesco... No, non riesco a romperlo. Chissà cosa c'è, non credo ci sia niente effettivamente. Ok, possiamo andare qua sotto? È ricominciata la musichetta truzza. Oh mio Dio! Forky Nice! Ash, quella Ash. Non ci posso credere, il mio coniglio preferito. Sono Ace, presidente della Febbre Peresh. Il tuo fan club... Il tuo fan... Ah, sì, non febbre in senso medico. Nel senso che siamo tutti pazzi per te. Da quando abbiamo visto quelle foto. Ah! Ho un fan club! Wow, che figata! Aspetta, cosa hai detto? Quelle foto sono piragate! Oh mio Dio! Troppo tardi, ci hai aperto gli occhi e tutti ci siamo liberati dai vestiti. Non avevo notato la censura sul pacco. Sempre a giocare a strip poker. Adesso dobbiamo rompergli assolutamente il culo. Che succede? Ma che figata! Oh, per portare... Ma certo! Ma certo! Questa serve per portare? La tazza contro quel vaso che abbiamo visto due puntate fa. E adesso? Eh, sinistra. Dove va? No, 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 non era sinistra. No, pepparuuu! Paratapam! Taratatuu! Vediamo? Ok. Intanto scendiamo. Eh! No, e come faccio? Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Ok. La si scende. Oh! 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 Questi non l'ho visto quando sono passato. Aiuto! Ok. No! Devo ricominciare! Ma maledetto! Ma dimmelo, no? ah no meno male me la riporta qua, grandissimo gioco ben fatto attenzione a il fregno sputafuoco ok allora mori ciccio sono una pippa sono una pippa ah sono se gioco tira fuori l'imbecille che è in me, come se già non fosse abbastanza fuori stai cheto allora eccolo, bingo preso, questo già l'abbiamo visto sei stato vasato amico mio qual è il vostro mestiere uomini il vasaio signori, questo è il ratman d'accordo c'è un altro tizio che mi tira oh mio dio sorcimon farà uno spettacolo in cambio di cibo ma chi te sei in cula perché non fai semplicemente apparire un po' di cibo dal nulla mi sembra un affettiente accidenti, hai proprio ragione ho fatto la figura dello scemo oh, ma qui è piano di culi oh, oh, oh ma li posso le posso rompere? dove sei ciccio? dove sei? sei su? ma li posso rompere con il il turnichio? no, no decisamente no ma io non lo vedo dov'è? ahio ahio sto prendendo le pizze sto super prendendo le pizze dai sentissimo dio i culi salterini ma vai finita sono morto sono morto con il cuo il c***o non ha zonando non ha 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 meno male che ha ricominciato qua oh 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 via 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 queste cose dovrebbero essere contemplate in un videogioco se già l'hai fatto non vuoi rivedere l'introduzione quindi dovrebbero mettere dei non mi ricordo come si chiamano in programmazione mi viene in mente Gambit ma non credo non credo proprio oh allora sei stronzo queste carte di merda dove sei eccolo mori 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 oh ma morici 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 si voilà ma che meraviglia ma è bellissimo oh si è rotto lì quindi posso salire fantastico e posso arrivare fino fin dove fino quando ah si è rotta quella ma ma non ci potevo già passare vabbè prendiamo un po' di big money ci sono altri nemici sopra per te ok io ci vado stai keto stai super keto grazie 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 woohoo ok dov'è che dovevo andare devo risalire ah ok giusto giusto è semplicemente una scorciatoia non posso salire di qua quindi devo ehi stai calmissimo non voglio sprecare soldi bastardo ma quindi adesso nell'isola no spero che ci sia si sia salvato quindi posso scendere finalmente qui sotto oh mio dio questo è fuego oh mio dio cosa succede cosa diavolo sta succedendo ho molta paura a scendere non voglio scendere oh mio dio ma perché perché che ti ho fatto vai col blaster satanico sei morto 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 mortignacolo mortignacolissimo e qui che c'è oh chi è qui mortacci oh molta paura mori mori morici 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 mori oh vieni giù vieni giù dove sei schifo 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 aiuto oh che è ah devo premerlo insieme si ce l'ho fatta heavy metal che diavolo oh mio dio sono sono acculturatissimo sta volando no dai ma perché santo dio adoro un giorno vorrei conoscere i creatori di questo gioco tan 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 oh posso andare finalmente là ottimo tan 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 quindi saltiamo un po' di qui un po' di qua un po' di su e anche un po' di giù ah mi prude qui e ok dove devo andare per tornare indietro di qua immagino e ok abbiamo rotto oh vita ottimo infermiere tettone per me oh la la scusi cosa vuole lei se ne vada ho detto che se ne deve andare qui non posso passare dov'è che dovevo andare dunque oh oh mio dio oh mio dio siete un po' in tantini posso andare qui yes non so dove sto andando sto andando completamente alla cazzo oh che cazzo ok si ce la faccio ce la faccio ce l'ho fatta ho pescato un bellissimo pesce io non ho capito perché è successo questo eeeh d'accordo si eeeh che schifo vermanale ok d'accordo tan 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 signore abbiamo quasi fatto questo stage secondo moi ma dove te le va a vedere Cassius via io se fossi in me ah no già sono curato completamente ma è maraviglioso no 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 davvero mi devi far ritornare qui no 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 ciao la tua morte intanto sento Nestor sopra ogni tanto fa allora allora devo arrivare qui poi uno solo ok mam 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 ahio mortacci tua io ho capito devo passare per di qua va bene va benissimo passiamo subito vieni qua ciccio prendimi sono tutto tuo saliamo ancora scatapum e possiamo stare all'extreme zone motocross vattene appesa cosa un biglietto non si traveste più signore cosa sei di nuovo sbronzo Nestor ma certo che no padrone era proprio lei o qualcuno che l'assomigliava molto più grande forse bene si tratta di me venuto dal futuro se gira queste parti vuol dire vuol dire che avrà qualcosa da dirci andiamo a cercarmi questo non ha senso però va bene si si ascio 2.0 ciao sono il futuro te io ho già finito il gioco e so anche cosa farai la prossima estate benvenuto alle missioni per salire devi essere alto così e anche morto eh dimmi come si gioca e dammi qualche bel costume certo attiva mod missione io sono molto preoccupato ciao giornale me stesso comincia le missioni fai una grobazio intorno al mondo fai una grobazio supereroe va bene che ricompensa c'è un regalo non so che cosa devo fare intorno al mondo più lt lt non so che cazzo dovrei fare scusate dov'è la mappa no qualcosa mi dice che devo andare qua fai cagare oddio fai cagare mi ha detto allora lt è questo ok ci sono sì non so che cosa cazzo dovrei fare davvero non me lo spiego ho bisogno di forse un ripassino ma che cazzo ce l'ho fatta ce l'ho fatta ho proprio tu sasti a caso ce l'ho fatta adesso sono il migliore ok va bene rs qual è fottuto me stesso lt lt è questo no lt è questo forse oddio oh ah ok 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 ho capito ho capito ho capito no non è che ho capito proprio oddio tantissimo aspetta com'è così lt ah ok ma non faccio cagare giuro ok adesso ho capito come si fa dobbiamo soltanto capire perché non posso farlo in diversi punti sì cazzo ok e intorno al mondo il supereroe ma regà ma io non so buono sì ok adesso devo fare quell'altra vero che però non ricordo come si fa sì cazzo mamma mia ragazzi sono troppo forte ho premuto tutto a caso un cappello sì sì voglio il mio cappello dov'è bello sì cazzo bellissimo ok adesso e adesso scusa ciccio ho fatto tutto no piccolo ho fatte tutte c'è provare mamma mia che cazzo che cazzo che cazzo sono me ne voglio andare non posso drivellare ok ma che cazzo dovrei fare il cielo è il limite devo andare quindi in alto d'accordo ok sì oh mio dio sì sì ma che cazzo sta diventando sempre più confusionario ma è una navicella spaziale nell'inferno ma che davvero che cazzo di figata sono il primo coniglio spaziale lassù nello spazio nessuno potrà ascoltarti piangere per quelle foto signori io vi lascio con le infermiere dettone questo videogioco è assurdamente bello lasciate un mi piace se anche voi la pensate così io sono Marcus Crohn noi ci vediamo nella prossima